In queste ore frenetiche, in queste ore di tragedia, siamo in contatto con due ministri, la ministra D'Adone che io ringrazio insieme con il ministro Garavaglia per l'attenzione che sta ponendo alla proposta che abbiamo fatto come alberghi della gioventù. Abbiamo scritto per dire che in questo momento è importante mettere a disposizione qualsiasi tipo di struttura e noi le strutture degli ostelli della gioventù le conosciamo bene, sappiamo qual è l'esperienza che riescono a fare, a rimettere insieme tanta gente, pensate sono nata nel 1945 come idea gli ostelli tramite Pessina e il governo di allora per rimettere insieme giovani che avevano combattuto fino a qualche giorno prima. Oggi ci ritroviamo nelle situazioni se non simili ancora peggiori, ci ritroviamo con famiglie intere, ci ritroviamo con tanti giovani che non sanno e che si ritrovano senza avere un aiuto e senza avere un punto di riferimento. Noi pensiamo che gli ostelli possano in questo momento, dopo due anni di fermo per il Covid, possano in questo momento invece essere una delle soluzioni a questo gravissimo problema. aspettiamo e siamo positivi nella maniera giusta per tentare di essere anche noi uno strumento di aiuto a questa gente. a questa gente. a questa gente. Grazie a tutti.